Leadership per Elaine Nolton ha un grande significato, noi siamo una società che si occupa di comunicazione, di consulenza nella comunicazione e spesso, molto spesso abbiamo a che fare con i leader delle aziende per le quali lavoriamo, quindi ha un grande significato perché da una parte abbiamo tanti interlocutori che sono leader, dall'altra il tema della leadership e dell'essere moderni nella gestione di un'azienda è molto molto importante in un contesto come il nostro dove ci occupiamo di comunicazione. Si dice che ci sono tante scuole che parlano di leadership, oggi abbiamo sentito tanti spunti, questa mattina ogni momento nella vita aziendale richiede, secondo le più stabilite teorie, e uno stile di leadership diverso. Io sono abbastanza convinta che l'epoca in cui viviamo richieda una leadership condivisa e io personalmente sono sempre stata una fautrice della leadership condivisa fin da quando sono arrivata, sono diventata a me stato delegato della mia azienda. Leadership condivisa vuol dire mettersi in discussione ogni giorno, vuol dire accettare gli errori, i propri errori e quelli degli altri, vuol dire accettare e prendere i contributi di tutti. In un lavoro come quello che facciamo noi, la consulenza di comunicazione, condividere pensieri ed essere disponibili ad accettare il contributo di tutti è veramente fondamentale. La leadership è un fattore reale, non c'è il greenwashing, se possiamo dire, è un fattore reale perché dei bravi leader costruiscono delle grandi squadre, sono parte della squadra, contribuiscono alla loro crescita, contribuiscono a una migliore performance e quindi a creare più valore per i nostri clienti e le aziende con le quali lavoriamo, perché il nostro obiettivo ovviamente è creare valore per i nostri clienti. Solamente con una leadership forte, condivisa, con una leadership onesta, trasparente, di cui ci si può fidare, si possono costruire squadre che performano e costruiscono valore per tutti. Noi siamo ormai partner di Uobi da diversi anni, non ricordo se 4 o 5 e ogni anno veniamo, lavoriamo con la squadra imparando e questi due giorni sono un momento di riflessione, ancora di condivisione e di apprendimento, di una visione ampia sul mondo, spunti che poi ci possono essere utili nel nostro lavoro di tutti i giorni e ancora un momento di condivisione con i nostri clienti e i nostri colleghi all'interno dell'azienda, quindi un momento molto molto importante.